Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale più elegante del mondo... Ah no, questa non è la mia intro Ciao a tutti ragazzi, bentornati nella Carmi Special E allora sì, oggi sono elegante... Per voi, perché così elegante Carmi? Ma come? Siamo diventati ricchi ragazzi, ormai sono ricco perché State vincendo tutti i fan da calcio, non sto vincendo io State vincendo anche voi E quindi con la clausola ovviamente della percentuale che mi spetta Sulla vostra vincita, praticamente sto diventando ricchi... Ah non c'è... Non c'è nessuna clausola dove chi vince il fan da calcio con i miei consigli Poi mi deve una... Ah non c'è sta... Vabbè, c'è sta clausola ragazzi, quindi io vi lascio in descrizione il mio percorso Sto scherzando ragazzi, sto scherzando Ma velocizziamo, anche perché ormai la giornata inizia oggi In descrizione trovate il link per scaricare i fan da ballottaggi Alla fine del video la utilizzerò anche Sono andato a rispondere a un po' di ballottaggi inseriti all'interno dell'applicazione Messa affinendo già la voce, sarà il ventilatore Voi immaginate in Sicilia a fine luglio con giacca e cravatta Quindi sto squagliando ragazzi Andiamo velocemente a vedere la giornata che ci aspetta Anche perché sono andato a compilare anche il file degli arbitri Vediamo se riesco a mostrarvelo in tempi brevi Eccolo qui Eccolo L'ho aggiornato ragazzi, nonostante avessi poco tempo Sono riuscito ad aggiornarlo E queste sono le disegnazioni ad oggi, ad al momento chiare E attenzione perché ci sono diversi arbitri che potrebbero dare calci di vigore Almeno sulla carta hanno statistiche interessanti Infatti c'è la penna per Atalanta Bologna Ragazzi abbiamo Atalanta Bologna come anticipo Significa che anche stavolta conosceremo la formazione ufficiale della DEA Vi aspetto in live prima qui su YouTube Poi ci spostiamo su Carmi Special TV Ok? Quindi intorno alle 18 saremo già in live Prima qui su YouTube e poi su Carmi Special TV Link in descrizione Comunque Atalanta Bologna ha la penna Quindi attenzione agli calci di vigore Ne ha già dati 12 ragazzi 0,75 è tantissimo Giacomelli ne ha dati 13 0,87 Quindi statistiche importanti Quindi qua si tratta di Inter Fiorentina Poi Samp Genoa ragazzi Ora ditemi chi è sto pazzo Che dà il derby della Lanterna Samp Genoa Chi è che fa le disegnazioni Ditemelo ragazzi Perché non si può dare il derby a guida A guida ragazzi C'ha 0,88 14 I rigori assegnati Cartellini a mai finire Anzi sta calando 5,81 prima era intorno al 6 Però attenzione a guida E attenzione al derby Quindi evitate magari I giocatori più rocciosi Schierate i rigoristi E vedremo Che Dio si scansi Scansatevi ragazzi Attenzione Sassuolo Milan Mi intriga perché c'è Pai Retto Che è un arbitro che combina un po' di pasticci Io alla fine gli ho messo rigore e cartellini Perché ultimamente sta iniziando a dare un bel po' di entrambe le cose Sia i cartellini ma soprattutto anche dei ricalci di rigore Attenzione perché potrebbe accadere qualcosa di interessante Ok Poi abbiamo uno spalle Roma dove c'è Manganiello Lui invece come statistiche particolari C'ha le espulsioni È l'unica particolarità sua Poi il resto ce l'ha super giù nella media Poi attenzione anche a Torino Verona C'è Valeri Che è un arbitro comunque abbastanza equilibrato nelle statistiche Ma ogni tanto qualche rigorino lo concede in maniera generosa Quindi attenzione anche a lui Andiamo a questo punto a vedere le giornate Sarò un po' più sintetico forse del solito Perché come detto ha anche un po' di fretta Andiamo a vedere l'analisi del partito Qui vedete il nostro store Vi ricordo anche quindi la live su Carmi Special TV Link in descrizione Mi raccomando risponderò a tutti i vostri dubbi di giornata Andiamo a vedere le probabili formazioni E la giornata che ci aspetta Atalanta-Bologna Come detto sapremo la formazione ufficiale Quindi deciderete anche in base a quella C'è squalificato mi pare Atebor Sì Ed Aix dall'altra parte Quindi attenzione alle loro assenze Malinowski, Gomez e anche Parasalic da confermare Vedremo poi se Parasalic partirà titolare o meno Schierabela anche Morelli eventualmente da subentrato Ma ne parleremo poi come detto in live Gli unici giocatori che non mi convincono forse dell'Adea in questa partita Potrebbero essere alcuni dei centrali e golini Ma quello dipende dalle alternative che avete nella vostra rosa Spero mi sentiate ragazzi perché ho poco a voce Il microfono è un po' distante Spero vada tutto ok Poi per i Bologna invece ragazzi scelte un po' più complicate Mi intriga il gol dell'ex Barro Ragazzi quanto sarebbe figo se effettivamente Barro la mettesse dentro Quindi attenzione a lui Lo potrei inserire Consideriamo ecco la serie sui marcatori che non posso portare in anticipo La mettiamo lì Mettiamo gol dell'ex di Barro Ok Gli altri un po' forse da evitare Ragazzi Soriano in lega numerosa come quarto solito del centro campo Ci può stare Passiamo a Sassuolo Milan Sta partita ragazzi può essere veramente pazza Torna Berardi tra i titolari E lo sappiamo contro le milanesi Quando il Milan ha sempre Ho creato grossi pericoli Nel frattempo forse arrivano anche le notifiche Non so di iscrizione o cose del genere Penso sia così Spero Vabbè disattivo l'audio in caso Stava a dire che stava a dire Di Sassuolo Milan ragazzi Attenzione Ciccio Caputo non si lascia mai fuori Ormai l'abbiamo capito Si schiera sempre Vuole arrivare a 20 gol E probabilmente ci arriverà Vedremo se sarà contro il Milan O con qualche gol Poi Anche gli inserimenti di Diurici Possono essere pericolosi I dribbling di Boga E come detto Berardi è sempre pericoloso Gol dell'ex di Locatelli Sarebbe clamoroso Ma io Una chance di Rado Soprattutto in lega numerosa Un buon voto lo può prendere Eviterei un po' invece i difensori A parte Muldur Che spinge molto E può essere pericoloso Ma attaccando sulla fascia destra Si scontrerà con Neteo Hernandez Quindi a livello difensivo Insomma su quella fascia Ci saranno scintille Da parte del Milan Ragazzi Ibra e Rebic Si confermano Così come c'è la Noglu Informissima Per chi addirittura è andato a prendere Sallemakers Ragazzi Avrete pochissimi Penso Però è una scommessa Che in queste giornate Magari ci può stare Perché la difesa del Sassuolo Concede sempre qualcosa E a Nantes È imprescindibile Buona chance forse perché sì Perché magari potrebbe Magari esserci un calcio di rigore Potrebbe Se non sbaglio abbiamo detto Dovrebbe esserci forse Non so se era Giacomelli Non mi ricordo l'arbitro Comunque State anche attenti Eviterei invece I vari Chi è il Calabria Donnarumma Che se avete un'alternativa valida Potete farci un pensierino Passiamo a Parma-Napoli Partita questa difficile da analizzare È sempre una partita a trappola Uno si aspetta magari la vittoria del Napoli Invece poi Magari non può cadere Credo verrà fuori una partita simile A quella tra Milan-Parma Ad esempio Dove il primo tempo Magari è un po' più imbloccato E poi si sblocca nel secondo Dovrebbe essere squalificato Per diffida Milik appunto Quindi attenzione a questa assenza Potrete avere Diciamo Migliori Diciamo Scheldt Ecco in attacco Ad esempio Attenzione A quanto pare Lozano Potrebbe essere Tra i titolari Se l'avete preso come scommessa Gli potete dare una chance Mertens Era un po' acciaccato L'abbiamo visto uscire per l'infortunio Quindi non so quanti minuti Potrà avere a disposizione Per il Parma Skuluzeski Schierabile Inglese E diciamo un ex Diciamo Essendo Diciamo Proverata anche del Napoli Però Non so se effettivamente Potrà essere pericoloso Forse lo potrebbe essere Gervinio Già l'andata Ricordate è stato Clamorosamente Straripante Non ricordo male Contro il Napoli Quindi attenzione Anche a lui Evitate forse In voi i difensori Perché Alcuni potrebbero Prenderli La sufficienza Ma potrebbero anche Prendere dei cartellini Tra i due portieri Scelta difficile Per entrambi Forse vado su Meret A livello di pronostico Mi aspetto L'1-1 Ok Non una partita Ricchissima Di bonus Ma dove Nel secondo tempo Vivacizzarsi Potrebbe venire fuori In 2-1 Nome scommessa Per la partita Potrebbe essere Zelisky Ha colpito un legno Se non sbaglio Contro l'Udinese Che avevo detto Poteva essere Poteva esserci Magari il gol dell'ex L'ha sfiorato Ragazzi Con la traversa Mi pare E a A un millimetro Diciamo Dal gol Perché c'è La goal line Tecnologici pure Comunque Attenzione appunto A Zelisky Potrebbe rifarsi In questa partita Passiamo All'interfiorentina Come abbiamo detto Qui potrebbe anche Eserci un calcio di rigore Quindi state attenti A Polgar da un lato O Lukaku dall'altro Potrebbero portarsi Di un più 3 O meno 3 Dal dischetto Io i rigoristi Comunque li schiero Sempre in questa stagione Ragazzi fatelo Cutrone in un momento Di forma Quindi sinceramente Potrebbe essere Una buona scelta Dargli ancora fiducia Riberì meglio di Chiesa Però Chiesa Comunque Essendo anche Desiderio Chissà che non inventi Qualcosa proprio In questa partita Ok Evitate un po' gli altri Invece giocatori Della Fiorentina Soprattutto in difesa Prenderanno secondo me Ammunizioni Dell'Inter Invece Tra i due portieri Ecco preferisco Leggermente Tantano C'è a livello di pronostico Mi aspetto un 2-1 Per i nero-azzurri Potrebbe venire fuori Anche qualcosa di interessante Da parte di Sanchez E l'attaccante più in forma Dell'Inter Ci è ballottaggio Ci è ballottaggio Tra gli esterni Quindi vedremo se giocherà Moses o Candreva A me sinceramente Ispira Lo stesso Candreva Anche da subentrato E' sembrato E' sembrato un po' Diciamo un po' Lugido Nell'ultima partita Passiamo invece a Lecce Mentre per il Brescia Sono veramente indeciso Per quanto riguarda La Samp Forse Quagliarella E Gabbiadini Sono quelli più schierabili Quaglia Sta tornando anche lui Abbastanza in forma La scommessa Buonazzoli Per chi lo ha preso E' da schierare Ragazzi Anche da subentrato E trova sempre Il modo di essere decisivo Quindi potete forse Dare una scelta Ovviamente Lega è numerosa Dove le alternative Non sono fortissime Ok Dall'altra parte Invece Sono indeciso Se consigliarvi Anche gli attaccanti Del Genoa Perché non mi aspetto Chissà quanti gol Panda E mi è sembrato Abbastanza in forma Quindi se lo avete Soprattutto Qualche fantacalcio Vedo che Sponda centrocampista In quel caso Schieratelo assolutamente Passiamo a spalle Roma Qui invece ragazzi La spalla E' già retrocessa Genza di B Quindi la Roma In teoria dovrebbe Dovrebbe sulla carta Vedere la facile Anche se ha Dei trascorsi Non proprio felici Con la spalla Quindi potrebbe Anche subire un gol Però comunque Paolo Lopez E' una scelta Sulla carta Agevole Per questa giornata Buona scelta Eventualmente Anche quella di Colaro Mi ispira Non so Con qualche punizione O tiro da fuori Potrebbe far qualcosa Anche se A un certo punto Della partita Poi inizia a stancare Pure lui Mentre per l'attacco Centrocampo Mkhitaryan Ragazzi Informissima Ha portato tantissimi bonus In relazione alle giornate Giocate Dal giocatore Considerando appunto Gli infortuni Quindi lui E per il tuo Essendo rigorista Vanno schierati In attacco Come detto Conferma Perzeco Sono indeciso Invece Per i trequartisti Che non è detto Il giochino titolare I vari appunto Pellegrini Anche Perez In teoria Anche gli esterni In vari Pellegrini E altri Giocatori Underni Quindi state attenti Schieratele solo Se avete Tanti giocatori Nel vostro Reparto Diciamo Di centrocampo Ma anche a livello Di sostituzioni Forse quello più schierabile È Pellegrini Che magari Può Portarvi un bonus Vediamo poi La situazione Con Zarinolo Perché non sappiamo Quanti minuti Può eventualmente Giocare Torino Verone ragazzi Qua Mi aspetto Una partita Una battaglia A livello fisico Ok Perché sono tutte e due Squadre che fanno Della fisicità Una delle loro Armi migliori Quindi lì in mezzo Al campo Tra Veloso Rincon Mette Insomma ci sarà Una bella battaglia Attenzione Alla squalifica di lui Che c'è una parte E una parte Dall'altra Soprattutto lui Che potrebbe magari Farsi sentire Questa assenza Metteranno un po' Di qualità In più Ma meno Sostanza Di a centrocampo Ragazzi abbiamo Peccato la scommessa Di Pessina La scorsa giornata Avrò detto Poteva essere Un gol dell'ex E così è stato Per chi ce l'ha Può essere una conferma Insieme all'aggio All'Azovic Potrebbero far bene Dall'altra parte Belotti Secondo me La metterà dentro Anche forse Con un calcio Di rigore Potrebbe essere Una buona scelta Quella di Ansaldi Mi ispira un po' Questa giornata Unica cosa che dovrà Stare attenti Attento anche Alle spinte Sulla fascia Dall'altra parte Infatti schierabile Anche Faraoni Quello si può schierare Sempre Soprattutto in questo tipo Di partite Anche se Diciamo il modulo Un po' a specchio Di queste due formazioni Potrebbe bloccare Un po' La partita Quindi i due portieri Volendo si possono schierare Non mi aspetto Valanga di bonus Mi aspetto Un 1 a 1 O un 2 a 1 Per il Toro Poi passiamo D'Udinese Juve Sfida che si giocherà Di giovedì In teoria ci aspettiamo Tutti la vittoria Della Juventus Che ha fatto Una buona prestazione Contro la Lazio Dominando per gran parte Della partita Senza ovviamente Fare chissà cosa Però ha avuto Diverse occasioni E il pallino del gioco Anche perché la Lazio Era veramente decimata Però dell'Udinese Non eviterei Tu Cioè De Paul Lo schiererei comunque Sempre Anzi Lo metto Sempre Stesso discorso per Lasagne Lei è molto numerosa Un giocatore che comunque Anche contro le big Può far bene Soprattutto visto che c'è Anche Bonucci Squalificato E con lì potrebbe Comunque esserci un vertugio Non che Bonucci Sia tutto so che Anche come difensore Però essendo Cirugani Ecco State un po' attenti Per la Juve invece Rabbio ragazzi Netta netta crescita Ve l'avevo detto Già settimane fa Che avevo notato Un rabbio Rivoluzionato post covid E si sta confermando Ragazzi Che partita ha fatto Contro la Lazio Quindi Ci può stare Secondo me Dargli ancora fiducia Dovrebbe tornare Bernardeschi Dopo la squalifica Ed è tutto un dire Però per chi ce l'ha Il Lega è molto numeroso Gli può dare la chance Dovrebbe giocare Di attivare Confermati assolutamente Paolo Di Bala E Ronaldo Ronaldo tra l'altro Sta seguendo Cioè sta combattendo Con Immobile Per il capocannoniere Quindi potrebbe Avere molta voglia Di metterlo dentro I compagni cercheranno Anche di servirlo Nella maniera Più adeguata Scommesso di questa partita Bentancur Non so perché Potrebbe magari Trovare il modo Di fare un bonus Lazio Cagliari Invece abbiamo una Lazio Veramente con le pezze Arco Ragazzi Veramente messa male Tantissimi indisponibili Quindi è una rosa Veramente decimata Però Ragazzi Vi avevo detto Immobile avrebbe segnato Contro l'Iu Anche se è stato un po' Prima ha colpito il palo Poi ci è riuscito Comunque dal dischetto Da confermare In ogni caso È rigorista Ragazzi Si mette Secondo me Sempre Confermato Secondo me Anche Milingovic Potrebbe fare Un assist O comunque Trovare comunque Un bonus An compiutere Eventualmente Gli altri Sono indeciso Ragazzi Perché Lazari Può sfincere molto Ma non dovrebbe portare bonus Quindi al massimo Se vi è contentato Di una buona prestazione A Cervi Ci sta Evitate secondo me Gli altri un po' Difensori Stracoscia In mancanza di alternative Ci può stare Ma potrebbe subire Un call Il pronostico A mio aspetto È anche qui Di 1 a 1 O 2 a 1 Per la Lazio Dall'altra parte Infatti eviterei Forse centrocambisti E difensori Del Cagliari Sarà una partita Molto maschia Quindi ci potrebbe Restare delle munizioni Gli unici sono Forse Simeone E Gio Pedro Simeone Però dipende Dalle alternative Gio Pedro Essendo rigorista È più schierabile Detto questo Andiamo a vedere Nella nostra App Fanda Ballottaggi E i dubbi Ai quali sono andato A rispondere Vediamo un po' Se ve la mostro Subito Ok Detto anche gli occhiali Qua sono andato Su Paolo Lopez Come dubbio Tra i portieri Poi Qua sono andato Su Sanchez Ragazzi Perché lo vedo Troppo troppo in forma Quindi secondo me Va schierato Vediamo poi Successivamente L'altro dubbio Su Caseto Adesso ci torneremo Tra pochissimo Ragazzi Perché c'era un altro dubbio Con Caseto Qui invece Sono andato su Caldara Non mi piacevano Nessuno dei due Per questa partita Però sono andato su Caldara Ma avrete la formazione ufficiale Probabilmente non giocherà Qui sono andato su Barro Come dicevo Gol dell'ex In teoria tutti votano Per Boga la maggior parte Ed è la scelta Anche più giusta Però non lo so ragazzi Sto Barro mi ispirava Particolarmente Qui invece tra Caseto E Zazza Come vedete Sono andato su Caseto Quindi per dimostrarvi Che in base al ballottaggio Che mi presentate Posso decidere Per un giocatore O per un altro Detto questo Ragazzi Io vi auguro buona fortuna Ci vediamo intorno alle 18 In live Prima qui su Youtube Poi su Carmi Special TV Link in descrizione Come il link Per scaricare Fanda ballottaggi Vi auguro buona fortuna Per il fan da calcio Soprattutto perché Non l'ho ancora vinto Mi avete scritto tantissimi Che avete già vinto Con diverse giornate Anticimo Peppolo sotto Sto scherzando ragazzi Ci vediamo in live Dai A più tardi E buona fortuna Buon finale di Fanta Calcio Da Carmi Special Ciao